E naturalmente alla conferenza stampa di questa mattina era presente l'intera giunta, tra cui l'assessore anche alla sicurezza, immigrazione e protezione civile, Simona Bordonagli, alla quale abbiamo chiesto di fare un bilancio per quanto riguarda le sue materie. 100 giorni di giunta del governo Lombardo, del governo Maroni, per quanto le riguarda, tre cose che vuole mettere in evidenza? Beh, penso che la cosa più importante, metto in evidenza solo una, che penso che sia la più importante che si aspettano i cittadini, la stipula urgente alla quale stiamo lavorando per il protocollo tra regione e Stato centrale per quanto riguarda la sicurezza. So che i cittadini sentono questa necessità, soprattutto in alcune aree della nostra regione, Milano in primis, e quindi arrivare alla firma di questo protocollo che darà maggiori poteri anche alle polizie locali per un migliore intervento sul territorio sarà essenziale.